Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo qui con Daniele, difensore e presidente del Borghesiana. Oggi una semifinale comunque combattuta dove avete dato comunque un bel impatto verso la fine, insomma ve la siete giocata fino alla fine. Un commento su questa stagione e su questo ultimo match? Allora, noi non ambivamo arrivare a questi risultati, ci siamo scritti a questo torneo per divertirci anche perché siamo un po' attempati come età. Dopodiché risultato dopo risultato siamo arrivati in finale con l'esperienza e un po' di cattivere che abbiamo messo in campo. Comunque oggi abbiamo affrontato una grande squadra, fortissimi tutti i ragazzi e purtroppo hanno vinto loro. Nonostante ci sono bravi, non possiamo dire nulla, bravi ragazzi, comunque ce la siamo giocata fino alla fine.